buongiorno renza innanzitutto benvenuta sul music italia ciao buongiorno grazie come va innanzitutto bene benissimo direi proprio bene come è stato il lockdown lockdown è stato lungo un po faticoso ma ha portato i suoi frutti nonostante il periodo insomma di costrizione forzata quindi si è riuscita a lavorare a scrivere sono riuscita a lavorare a lavorare forse anche di più che se fossi stata libera di scorrazzare in giro vedai quindi momento di riflessione momento di riflessione tanto lavoro tanto bene 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 ma senti siamo pronti per il singolo la libertà tu come definiresti definirei la libertà più che altro questa canzone come una rivincita sull'accettarsi e sull'avere la capacità e il coraggio di lasciare andare i mostri che fanno parte di noi che ci aiutano a migliorarci ma che a un certo punto vanno lasciati andare per fare spazi ai nuovi io direi che è un brano come detto tu unino all'accettazione ma anche un dialogo con se stessi sei d'accordo assolutamente sì diciamo che questo brano io inizialmente l'ho proprio gettato senza freni proprio senza freni mi sono accorta poi però col tempo che invece di parlare a qualcuno in particolare stavo parlando proprio a me beh io direi che il testo comunque si può adattare anche al periodo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo è molto attuale sì direi che non volendo è cascato proprio preciso preciso anche per questo periodo che purtroppo abbiamo passato ultimamente quindi sì come è nato il brano il brano è nato in un periodo post x factor dove ero insomma un pochino sballottata dagli eventi inevitabilmente ero su un divano in questo fantastico bilocale a milano ospite di amici e niente ho iniziato a suonare la chitarra e mi sono uscite queste parole così da sole e nei giorni a seguire ho detto ma cosa ho scritto cosa ho scritto cosa ho scritto ed è nata in pochissimi giorni pochi pochi è uscita da sola beh tu hai parlato dell'esperienza x factor che ricordo hai un ricordo bellissimo e prezioso diciamo che è stato proprio l'inizio di una nuova ripartenza mi ha acceso un sacco di luci nella testa e mi ha aperto tantissimo gli occhi bene e tra l'altro appunto hai avuto modo di cantare anche un inedito firmato tra l'altro da Tony Bungaro esattamente quella è stata diciamo un'uscita in grande stile se vogliamo dirla così mi sono sentita molto molto orgogliosa di quel brano e di tutto il percorso che ho fatto ma con Tony avete lavorato ancora insieme vi sentite ci siamo sentite a ridosso della mia uscita poi per motivi di lavoro di entrambi insomma non abbiamo ancora avuto l'occasione di rincontrarci di persona beh sono curioso di di conoscere poi anche il suo punto di vista su questo su questo brano assolutamente sì bene bene io parlerei anche di quello che è il tuo percorso musicale e in particolare lo studio della chitarra classica quanto è stato importante in diciamo nella tua formazione beh direi che è stato fondamentale perché ho iniziato innanzitutto da ragazzina quindi con una capacità di assorbire le informazioni molto 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 più rapida di adesso e la base classica mi ha dato modo di poter avere una base solida quantomeno dell'idea musicale è vero anche che poi nel corso della mia adolescenza un po abbandonato tutto quanto ma quando mi sono ritrovata con la musica che mi cadeva addosso tutte quelle basi quello studio che avevo fatto da ragazzina è stato preziosissimo molto prezioso beh direi proprio di sì anche perché comunque lo studio è uno strumento soprattutto così importante ti dà quantomeno una base quantomeno un'impostazione anche per cercare di scegliere quelli che sono determinati anche da pubblicare proprio per le sensazioni che si possono provare beh sicuramente la tecnica e tutto lo studio che facciamo nel corso degli anni diventa poi uno strumento per liberarci di più quindi io penso sempre questa cosa studia 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 impara più che puoi quando arrivi in quel momento cerca di dimenticartelo per un attimo e lasciati libero veramente mentre invece la tua esperienza di studio di canto jazz quello è stato il primo approccio che ho avuto con il canto perché in realtà mi sono riaffacciata alla musica per caso e successivamente al canto prima da chitarrista e poi da da provetta cantante cosa è successo che nella zona dove abitavo le scuole insomma non erano tantissime quindi mi fu consigliata a queste insegnanti io mi buttai in questa in questa scuola che faceva principalmente canto jazz ovviamente dopo un anno e mezzo una roba del genere ora non mi ricordo con esattezza ho cercato di virare da questa strada non perché non mi piacesse ma perché sentivo l'esigenza di creare una base solida di studio di tecnica e di tutto quello che il canto poteva offrirmi senza sconfinare troppo precisamente chissà dove ma intanto avere una base solida ma quanto c'è del del canto jazz comunque di questa tua impostazione nella libertà allora nella mia libertà la renza ce n'è tantissima né dentro la libertà che sentirete fra poco c'è qualcosa c'è c'è sicuramente sì soprattutto dal punto di vista della stesura armonica io ho usato qualche accordino colorato che mi piacciono tanto se dovessimo sognare con chi ti piacerebbe collaborare un magari un nome italiano e un nome internazionale questa è una domanda bellissima perché in realtà ci sarebbero un sacco di artisti con cui vorrei collaborare questa è una domanda tipo dai cantaci una canzone che ne concedono a tre tre se vuoi allora diciamo che del panorama italiano sicuramente mi farebbe piacere collaborare con di odato che è un artista che stimo tantissimo al di là delle sue ultime conferme di di sanremo e tutto il resto mi piacerebbe tanto anche tiziano ferro non lo nego e del panorama internazionale beh se possiamo sparare proprio alla stragrande mi piacerebbe un sacco dualipa perché sicuramente mi darebbe un po di grinta e un po di cose belle leggere rifaresti un talent sì lo rifarei con la testa di adesso sì perché cos'è cambiato comunque questo in questo periodo la consapevolezza soprattutto dei miei limiti che però sono diventati i miei punti di forza quindi sono molto 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 soddisfatta di come sono beh sai l'accettazione dei limiti è comunque già un segnale di libertà credo che anche questo confermi anche quello che è un passaggio quello che è un certo tipo di percorso beh sì ovviamente finché non si arriva a riuscire a guardarsi allo specchio e accettarsi per quello che siamo diventa un po complicato andare avanti si rimane forse un po immobili qual è il tuo obiettivo musicale per il 2020 il mio obiettivo musicale per il 2020 intanto è far uscire questi brani e in realtà c'è una cosa fortissima un grande sogno che ho nella testa ma non ve lo svelo ancora pescaramanzia quello giusto ma ci sarà spazio per un album e secondo te il concetto di album può essere considerato ancora attuale sicuramente ci sarà un album e secondo me sì si può assolutamente considerare un concetto attuale anche se andiamo effettivamente un po troppo di corsa quindi c'è sempre il rischio di consumare velocemente le informazioni e i lavori che vengono fatti però perché no cioè io sono cresciuta comprandomi gli album e vorrei tanto che questo potesse essere insomma la portata di tutti che ritornassimo un pochino di più con quella sana calma per poterci godere anche 15 20 brani il relax sul divano con un buon bicchiere di vino quale rapporto tra la tua musica e social rapporto fra la musica e social è un po così un grande mare diciamo che nel periodo appunto che ho avuto di di stop se vogliamo chiamarlo così o di ricognizione di questo annetto e mezzo post x factor il mio rapporto con i social è stato un pochino altalenante non lo nego e poi sicuramente lo avrete visto e ovviamente perché nella mia testa c'era questa questa conviccia questa convinzione fortissima che dicevo cosa io posso dire se realmente non sto per dare qualcosa di importante e infatti così è stato nel momento in cui c'è stata tutta una grande organizzazione per tutte queste cose qua ci siamo rimessi sotto perché era il momento di dare qualcosa diciamo che mi piace usarli con utilità e quindi per comunicare realmente qualcosa di concreto molto bene renza io non posso che ringraziarti buona musica e viva la libertà grazie la libertà